La barca della posta per Napoli, con a bordo Ingeborg, ha appena lasciato la darsena del porto di Ischia. Di nuovo sta piovendo, una piaggiarella autunnale. Torno a casa, la musica per il Koning Isch, con dei pezzi di legno accendo il fuoco nella mia piccola stufa. Ho un unico desiderio, che la mia composizione corrisponda alle mie aspettative. Verso le cinque del pomeriggio sento bussare alla porta, riconosco il segnale. Sono i Walton, sono venuti a prendermi per una passeggiata. Li avevo conosciuti qualche settimana prima a casa di Oden e Kalman. a casa di Oden e Kalman. a casa di Oden